ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video in questo nuovo svuota la spesa euro spin sono andati Maurizio e Giorgia con la lista della spesa ovviamente però non so nel particolare quello che hanno preso quindi andiamo a vederlo assieme allora le bottigliette d'acqua naturale perché Giorgia poi dovrà fare il pon e quindi così almeno le ha da portarsi dietro il pon è un progetto scolastico dove in questo caso ripassano le cose che hanno fatto durante l'anno poi due pacchi di tonno naturale quattro confezioni di hamburger di pollo da 2 quattro confezioni di uova da 6 i bastoncini di merluzzo senza glutine e i bastoncini di merluzzo col glutine quattro confezioni di hamburger di suino i pannolini per pia questi qui taglia 5 una confezione di albicocche e il riso lungo bipar boiled da 2 kg questo qui poi quattro di questi yogurt e al cocco yogurt grechi questi qua mi piacciono un sacco poi l'hanno preso bianco e 6 e al caffè 6 fontal due pan bauletto bianco questo senza glutine 2 pan bauletto integrale questo qui per noi 6 il tofu naturale vabbè per adesso abbiamo questo poi i fazzolettini perché con la mia allergia li sta facendo andare tutti quattro pacchi di mozzarella queste qui sono 4 per 125 salviettine baby per pulire sederina pia poi quattro yogurt alla vaniglia quattro al caffè quattro alla banana quattro alla fragola quattro al cocco 12 litri di latte parzialmente scremato questo qui ho ht poi gelati questi coni alla panna senza glutine i coni alla marena i sei mini biscotti ciocco stracciatella e 6 coni con vaniglia e cacao poi cinque confezioni altre di hamburger di suino che sono senza glutine un'altra di pollo poi i muesli croccanti al cioccolato fondente nocciole cartigenica hanno preso questa qui soft dream morbida e profumata poi questi cereali multi grain grain grum grum vabbè a basso contenuto di grazi zucchine poi quattro pacchetti di sale grosso due cura lavastoviglie due uno non se lo ricordo ma qui ce ne è uno poi pesche questi cereali ciocco nuts sono quelli ripieni di nutella e poi honey rings gli annellini al miele e tre pacchi di cracker integrali poi due confezioni di lattughino due confezioni di pan di zucchero tre confezioni di straccetti di soia pomodori poi olio extravergine di oliva delicato olio di oliva normale questi qui del frontoio la rocca è buono ci piace questa misticanza con dentro lattughino rucola valeriana e spinaccino e poi trovate un'altra confezione di tonno poi abbiamo preso 10 confezioni di quest'acqua qui ginevra poi un gel per la lavastoviglie pomodori altri a marmellata abbiamo preso albicocca frutti di bosco pesca e fragola altri pomodori altre insalata misticanza due pacchi di carote da un chilo poi qui ci sono zucchine altre zucchine e qui abbiamo cetrioli poi delle melanzane 3 per la precisione due meloni di questa tipologia qui sciroppi per l'acqua abbiamo preso della blues lo sciroppo di arancia sciroppo e fiori di sambuco e menta zero e sono tutti quanti senza glutine poi olio di semi e poi un po di fagioli fagioli cannellini fagioli bianchi di spagna fagioli borlotti poi di questi ne abbiamo presi 12 per ogni tipo invece di mais ne abbiamo preso 10 questo qui dolce poi peperoni gialli e peperoni rossi e per finire abbiamo patate rosse forse mauricio voleva dimmi che vuole gli gnocchi non so poi 12 di piselli un altro cura lavastoviglie un altro già per lavastoviglie le crocchette per la signorina olivia e le crocchette per oghi e poi un altro di straccetti di soia io adesso vi lascerò lo scontrino per farvi vedere i prezzi spero che questo suata la spesa vi sia piaciuto se è così lasciate un like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo lunedì con un nuovo video ciao 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 1, 2, 3, come on! Come on, come on! Ha!